Salamuari! 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 Ti ringrazio innanzitutto per essere venuto. Perché poi tu sei quello che ha fatto lo sforzo più grande, il visitatore fa lo sforzo più grande di quello che riceve. Il nostro dialogo è stato annunciato varie volte, non è mai avvenuto più in fondo. E adesso avviene senza essere annunciato. Per farlo bisogna non annunciare. Flash mob! Io ne so qualcosa, mai annunciare. Se tu non l'annunci la fai, poi dopo ha fatto compiuto, poi posso raccommentare. No, l'idea era di trovare un momento per parlare, conversare tra due persone, due esseri umani innanzitutto. Due sconosciuti. Ci siamo conosciuti, ci siamo conosciuti. Però ci siamo comunque subito ritrovati. C'è una tradizione del profeta, parlando con un ateo, lì cito il profeta, che dice che le anime sono come dei soldati con le armi. Quando si conoscono, queste armi decadono. Se non si conoscono, invece tra uno, le armi sono sempre spuntate verso l'altro. Ma quello solo per i credenti. Io, per esempio, che sono ateo, l'anima non ce l'ho, quindi non può essere un incontro di anime. Ci sta, ci sta. Però sicuramente c'è qualcosa che ci unisce, anche il tuo impegno, soprattutto con questo ultimo libro che ha fatto un po' di rumore. Ed è venuto in un momento particolare, anche in qualche maniera storico particolare. Vediamo tutto quello che succede nel mondo. C'era questa idea che ormai il trionfo finale dell'Occidente, della civiltà occidentale, che ormai diventava qualcosa che fa parte del mondo. E soprattutto del capitalismo, perché era caduta l'Unione Sovietica, quindi del comunismo. Però subito dopo, tre o quattro anni dopo, Huntington ha scritto il suo articolo che poi è diventato un libro, lo scontro di civiltà, Clash of Civilization. E lì il mondo non era finito. Abbiamo trovato un altro nemico, in qualche maniera, perché il nemico rosso se n'è andato. Arrivato quello verde. Arrivato quello verde. E bisognava, in qualche maniera, costruirlo questo nemico. Infatti è stato costruito anche tra Huntington, poi anche quello che è successo dopo. C'è chi dice che quella profezia di Huntington, dello scontro di civiltà, sia una self, come si dice? Autoavverante. Autoavverante. Che si autoavvera, perché tu fai la profezia, poi lavori perché avvenga. E in qualche maniera c'è stato. L'Occidente ha lavorato perché aveva bisogno, forse, di un nemico. E il nemico era il nemico verde. C'è un bel libro, non so se l'hai visto, di Elena Basile, che si chiama L'Occidente è il nemico permanente. C'è bisogno di avere un nemico perché altrimenti poi se si è in pace... Ma perché vedeva risaltare anche le fila interne. Le fila, perché sennò poi dopo quando sei rilassati poi quelli interni dicono Allora qua possiamo cominciare a vedere i nostri problemi. C'è lo spauraggio. Però gli islamici non è la prima volta che sono i nemici. Musulmani o gli islamici. Dai tempi... Questo ti fermo. Ah, giusto, giusto. Perché da te non me l'aspetto. Musulmani o gli islamici. Perché quello tutti gli intellettuali, anche gli intellettuali dicono gli islamici. Poi non è una cosa vecchia, è solo da qualche decenni o due che si usa gli islamici per dire il nemico umano. Ah certo, sì sì. Non so perché, però è sbagliato dal punto di vista linguistico. Qual è la differenza esattamente? Perché islamico è un aggettivo. Sì. E quindi non si usa un aggettivo per definire la persona, si usa un sostantivo. Il sostantivo è muslim che è diventato musulmano. Musulmano. Quindi è musulmano. Islamico può essere la cultura islamica, la religione islamica. Ma la persona non è islamica, la persona è musulmana. Ah, ho capito, sì sì. E quindi quello è un errore che si fa. Però anche da noi si dice per esempio cattolico, cioè non è che una persona sia cattolica, no. Ma c'è però la sua fede è quella. Però cattolico sia sostantivo in questo caso che l'aggettivo. Invece in un altro caso musulmano è il sostantivo. Ah, ho capito. Però perché non è solo una questione di lingua, di grammatica, di città, di quello che è. La questione è di islamico ha un senso un po' più peggiorativo. Ah. Secondo noi. Gli islamici fino a qualche decennio fa erano usati per parlare di islamisti, quelli un po' più estremisti. Poi a un certo punto siamo diventati tutti islamici, quindi tutti estremisti in qualche maniera. Ah, è strano perché... È un simulamento molto, molto... Nei nostri libri di storia, perlomeno quelli che leggevo io, anche e soprattutto in inglese tra l'altro. Islam è la cultura, non soltanto la religione, ma la cultura islamica. Si può dire, si può dire cultura islamica, tutto. Solo definire le persone islamici, no. Invece islamica si può dire, o musulmano o islamica, cultura musulmano o islamica equivalgono. Quindi non è l'analogo di europeo, per esempio, o occidentale, per esempio. Ma perché sulle parole è molto importante, perché poi anche la mia recente bufera si basa su una parola. Certo. Quindi le parole sono terribili, tu lo sai meglio di me. Non lo so, tu non lavori con le parole, lavori con i numeri. Beh, io sono un logico, quindi... Le parole sono... Pochi numeri e molte parole, molte formule più che altre. E quindi, e perché le parole sono... Soprattutto nel nostro caso, le parole ci hanno sempre condannato. Vigiali, per esempio. Ci hanno sempre tradotto in guerra santa. Totalmente falso. Hai cercato di spiegare due settimane, ma nessuno lo vuole capire. Non c'è peggior sordo di chi lo vuole sentire, come si dice. No, esiste questo adagio. Ma c'è il tuo amico, il tuo amico vero, Alessandro Barbera. Sì, sì. Perché lo cito sempre sul termine jihad, perché mi aiuta. Perché lui ha fatto qualcosa di più. Lui ha una conferenza sul termine jihad dell'Islam. E lui distingue anche tra jihad e crociata. Dicono la stessa cosa. La crociata è offensiva. Cioè, io vado, prendo la terra. Jihad, secondo quello che dice anche lui, è qualcosa di difensivo. Almeno dal punto di vista, diciamo, del libro, del Corano, come i musulmani l'hanno inteso. Poi, nella pratica, i musulmani l'hanno usato anche per espandersi. E ti chiamavano quello giro. Ma anche i crociati l'hanno usato allo stesso modo, perché loro dicevano... Le prime crociate erano guerre di liberazione, no? Di Gerusalemme. Cioè, l'idea è Gerusalemme è nostra, qualcun altro se lo prende, andiamo a liberarlo. Poi cosa hanno fatto là? Perché anche lì Barbero ci aiuta sulla storia, perché lo ascolto molto. Lui c'era, era presente. No, lui ha studiato le fonti, diciamo. Lui parla che loro sono andati a liberare questi cristiani, ma hanno uccisi loro per prima. Loro, passando per andare in Palestina, sono passati da dove? Da Contratinopoli. Certo. Lui ha fatto dei massacri, uccidendo dei cristiani non cattolici. D'Oriente, però. D'Oriente, infatti. E quello è liberare... L'importante è che siano diversi da noi. Ecco come gli americani, andiamo a liberare gli erachini, però ne hanno uccisi quasi centinaia di migliaia, non so quanto. Credo milioni, credo. Beh, adesso dipende, ma se ben ricordo, credo che siano, non mi ricordo quanti milioni, la guerra al terrorismo però. Ah, in generale. Non solo l'Iraq, anche l'Afghanistan, poi il corno d'Africa, eccetera. E quindi, dicevamo, su questo nemico, qualche mera pubblico, che non sono io, ma è l'Islam in quanto tale come sono i nemici di questo occidente. L'altro giorno parlavamo anche del fatto che come l'Occidente, tu anche nel tuo libro ne parli, di questo occidente che è stato sin dagli albori, diciamo, almeno, più o meno l'epoca in cui è diventato... L'Occidente nasce quando? Beh, dipende come uno lo definisce, perché sai, una volta nasce, credo che l'origine della parola occidente sia nata in quello che oggi è il Medio Oriente, proprio in Palestina, o da quelle parti lì, perché l'idea era che il mondo è diviso in due parti, quelli che stanno a destra, guardando il Polo Nord, e quelli che stanno a sinistra, quelli che stanno a destra sono orientali, di lì sorge il sole e quelli che stanno a sinistra sono occidentali, perché li tramontano. E oggi però, ovviamente, occidente... Io per lo meno l'ho definito come l'Europa e le colonie europee che sono rimaste bianche. è una definizione che sembra strana, però l'Europa, che sono tutti paesi europei, molti dei quali sono stati colonialisti, non soltanto la Francia e l'Inghilterra, come spesso si pensa, ma compresa l'Italia, i Paesi Bassi, il Belgio, il Congo belga, e così via. E le colonie che sono rimaste bianche, che sono in particolare le colonie del Nord America, che poi sono diventate gli Stati Uniti e il Canada, e quelle dell'Oceania, cioè l'Australia e la Nuova Zelanda praticamente. E tutte sono... Tu ci includeresti anche Israele? Israele è una cosa un po' strana, perché anzitutto è venuto molto dopo, nel senso che mentre questi qui si possono far risalire al 1492, uno vuole l'inizio della colonizzazione al di là dell'oceano addirittura, quindi la presa di potere nel mondo, perché poi molti dicono quando vedono il titolo, anzitutto le critiche che mi fanno sono due, a seconda di... Uno è, ah, c'è del marcio in Occidente, inteso come c'è solo del marcio in Occidente, che poi è una stupidaggine, ci sono anche tante cose buone, per esempio i pasticcini che abbiamo mangiato ora, però non voleva dire quello. E dall'altra parte c'è del marcio solo in Occidente, cioè come se tutti gli altri fossero dei santi, non è quello, cioè ciascuno ha i suoi problemi. L'Occidente è eccezionale, proprio nel senso che fa eccezione, perché è l'unica aggregazione, diciamo così, di popolazioni che ha cercato, e c'è anche riuscito tra l'altro, di conquistare l'intero mondo. Ora quello rende una cosa molto diversa, anche qualcuno cita Gengis Khan, però nessuno è andato in America, in Africa, in Oceania, nel Buranesi, e poi soprattutto è durato cinque secoli, quindi quello è l'Occidente per me, e soprattutto quello che poi è successo è che non solo andavano e conquistavano, però praticamente facevano piazza pulita di tutti quelli che c'erano. Quindi i veri genocidi, non perché gli altri non siano letteralmente dei genocidi, però quelli sono stati proprio stermini di intere popolazioni, l'America del centro e del sud, poi pelle rossa, diciamo come si chiamavano, nel nord gli aborigeni australiani, i maori neozelandesi, quelli oggi sono scomparsi praticamente, ne rimangono alcune tracce, spesso in campi di concentramento, perché se uno va negli Stati Uniti, le chiamano riserve, ma sono campi di concentramento nel senso letterale, anche perché c'è molta confusione secondo me sui campi di concentramento, molti confondono i campi di concentramento, i campi di lavoro e i campi di sterminio, sono tre cose diverse. Concentramento sono quelli in cui tu metti la gente dentro e li tieni lì per qualche motivo, per esempio in Sudafrica i neri vivevano in campi di concentramento, in Algeria quando le casbe, quando alla sera bisognava rientrare e chiudevano le porte, gli ebrei spesso sono stati anche loro, nei ghetti e così via, quelli sono campi di concentramento, i campi di lavoro sono quelli per esempio che esistevano in Unione Sovietica e in tanti altri paesi, Gulag e così via, dove tu vai e però poi ti fanno lavorare e molti muoiono, e poi ci sono i campi di sterminio che sono fatti apposto per ammazzare tutti quelli che arrivano, ma anche i tedeschi per esempio avevano dei campi di sterminio ovviamente, ma erano pochi, il più famoso è Auschwitz, Birkenau e credo Treblinka, quelli sono i due grandi campi di sterminio. Dai campi di lavoro, dai campi di concentramento sono tornati molti, per esempio il nostro Primo Levi che poi l'ha raccontato in tanti libri, dai campi di sterminio non tornavi perché andavi lì per essere ammazzato, cioè come arrivavi, semplicemente facevano queste cose. Questa cosa non c'è, nessuno ne ha parlato, ma infatti si fa molta confusione. Sempre che siano tornati dai campi di sterminio questi. No, sono tornati dai campi di lavoro, dai campi di concentramento, dai campi di sterminio non tornava nessuno, quindi venivano ammazzati immediatamente. Ma i campi di lavoro erano una fase precedente? Spesso per esempio ad Auschwitz, che era un grande conglomerato, c'erano campi di lavoro e c'era anche una parte che si chiamava appunto Birkenau, che era il campo di sterminio. Ma la cosa interessante, io l'ho messo nelle citazioni del libro perché fanno accapponare la pelle, Hitler diceva, ma queste cose non abbiamo mica inventate noi, le abbiamo copiate di sana pianta dai nostri amici occidentali e in particolare lui citava i campi di sterminio che gli inglesi avevano fatto nel Sudafrica. Sudafrica dove c'erano anche lì dei campi di concentramento perché i neri venivano messi nelle zone per i neri. Quindi insomma abbiamo delle grosse macchie, diciamo così. Ne parla anche Bowman di questo, di molto super, perché c'era anche un libro sull'Olocausto. Ne parla di questo, che il nazismo non è stato... Poi ne parla anche un altro autore egiziano che si chiama El Mesiri, non credo che sia stato tradotto, ma ha vissuto in America, ha scritto una grado di enciclopedia sull'ebraismo, sullo sionismo. Lui parlava del nazismo come il momento in qualche maniera in cui la visione occidentale, quella civilizzatrice, è arrivata al suo appoggio in qualche maniera. E' la realizzazione piena del disegno occidentale in qualche maniera. Perché in quel momento occidentale nel suo senso di... Non era l'occidentale che mi stupiva, era il piena. No, il piena, cioè non il piena ma nel senso era proprio lì che ha detto facciamolo senza badare a nulla. Ma il problema è che il nazismo poi però ha fallito, è durato pochi anni, da 33 fino a 45, una dozzina d'anni. L'occidente ha le stesse origini del nazismo, anzi, diciamo il contrario. Il nazismo è stato uno delle tante declinazioni di una certa mentalità che rimane tuttora. E tra l'altro, come ho citato poco fa a proposito dei campi, il nazismo ha copiato spesso le cose che poi noi adesso imputiamo appunto a Hitler e ai suoi nazisti. Per esempio le leggi razziali. Uno pensa che Hitler abbia introdotto le leggi razziali nel 33 e poi i fascisti le abbiano copiate nel 38 ma lui, di nuovo, dice noi le abbiamo semplicemente prese dagli americani e gli americani agli inizi del novecento, per decenni, la maggioranza degli stati degli Stati Uniti avevano leggi razziali che erano state fatte da un signore che si chiamava Loffling, tra l'altro, che poi quando Hitler arrivò al potere gli diedero ad Heidelberg nel 1936 la laurea d'onore perché era lui che aveva inventato queste cose meravigliose delle leggi razziali, cioè per esempio castrare gli omosessuali, poi mettere appunto nei campi i deficienti, diciamo proprio così, oppure gli zingari, i comunisti, eccetera, eccetera. E queste sono cose straordinarie perché poi Hitler è finito nel 45 ma dopo il 45, negli anni 50 ancora, negli Stati Uniti sono stati castrati 50.000 omosessuali per decreto giudiziario, cioè ti portavano di fronte al tribunale dice è stato preso così questo omosessuale e li castravano letteralmente. Anche l'antisemitismo non nasce con Hitler. L'Europa è sempre stata l'antisemitità dal Medioevo in poi, cioè gli ebrei erano dei uccidi, erano loro che avevano uccisi lui. Certo, anche in Russia per esempio c'era una lunga tradizione di antisemitismo, ma io nel libro faccio, anzi questo mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu, se la cosa è tirata per i capelli oppure no, perché io dico che in fondo in Europa siamo tutti antisemiti, perché che cos'è il semitismo? Il semitismo è l'odio nei confronti dei semiti. Ora però, adesso non vorrei dire gli arabi eccetera, sono semiti nello stesso modo, sono un altro gruppo. E quindi gli israeliani sono antisemiti nei confronti dei palestinesi, e i palestinesi probabilmente lo sono antisemiti nei confronti degli ebrei, e però c'è una specie di, e questo è interessante perché la storia della Bibbia racconta anche queste favole sulla nascita dei tre grandi gruppi di popolazione, Sem, Cam e Iosef. Esatto, i tre figli di Noè, uno dei quali saremmo noi, i bianchi diciamo così, e gli altri, i kamiti, sono i neri diciamo così. I indoeuropei. Cioè potrebbe essere. Gli indoeuropei. I kamiti sono i neri dell'Africa e i semiti sono i medio orientali, quindi in un certo senso la tradizione è la stessa. Noi con gli ebrei e gli arabi, anche la lingua ebraica, io quando sento l'ebraico capisco alcune parole, non ho mai sentito l'ebraico, perché sono vicino all'arabo. Ma anche la parola arabo, ebreo, ha le stesse consonante, le stesse... Anche noi scriviamo da destra a sinistra, tutte le due, tutto un insieme di cose che ci accomuna. Ma è proprio questo il problema. Anche l'antisemitismo noi come arabi non lo abbiamo mai, cioè nel modo in cui è stato vissuto in occidente, in Europa, non l'ha mai avuto. Noi quando sono fuggiti, quando siamo fuggiti noi loro, perché siamo scappati, cioè siamo stati in qualche maniera, come dire, deportati o uccisi con le corti di inquisizione nella Spagna. Ah certo. La Spagna, anche chi è escluso? Arabi e gli ebrei. Musulmani e gli ebrei. Certo. Perché quando sono arrivati i cattolici, perché i cattolici fanno sempre fuori tutti quelli che cattolano. Certo. Noi siamo i migliori di tutti. Non accettano altro. A differenza di altri che invece, come ne parlo, gli ottomani. Gli ottomani diceva, sembra Barbero, è un riferimento ormai, che dice che arrivato a un certo punto il soltano ottomano aveva più sudditi cristiani che non musulmani. Certo. E nessuno li costringeva a diventare musulmani. Quindi, questo antisemitismo che adesso si lancia contro gli arabi, voi siete anti-semiti, già avete quelli ebrei. Cioè, in qualche maniera, c'è chi dice che la nascita stessa... La risposta è, pure voi siete anti-semiti, ce l'avete con noi. Infatti, noi non usiamo questa amofobia. Voi siete anti-semiti, noi siamo anti-semiti. Possiamo anche usarlo. Però diciamo, loro lo usano in un'altra maniera. Il problema è che si stende ancora di più. Cioè, questo con l'antisemitizzazione non si parla più. L'antisemitismo non è solo odiare gli ebrei, ma anche averci una ideologia politica come lo sionismo, sei antisemita. C'è un allargamento di questo concetto. Ma sai che cos'è? Questa è una cosa che è stata fatta in maniera sistematica e evoluta. È stato Abba Eban, che era uno dei padri fondatori dello stato ebraico, dello stato di Israele, che agli inizi era l'ambasciatore alle Nazioni Unite, poi divenne ministro degli esteri. E nel 1970, credo che fosse, comunque in quegli anni lì, quando ormai cominciavano ad esserci problemi, ovviamente c'era già stata la guerra dei sei giorni, sarebbe arrivata da poco quella del 73, eccetera. E lui diede una disposizione dal ministero degli esteri a tutti gli ambasciatori, ai portavoce diciamo, dello stato di Israele, di dire che la nostra tattica o strategia deve essere quella di dire che ogni volta che uno attacca le politiche dello stato di Israele, è antisemita. E naturalmente negli anni 70 essere antisemita, soprattutto dopo la guerra e quello che era successo nei campi, diventava una cosa insopportabile. E allora quando tu dicevi qualcosa contro lo stato di Israele, ti diceva sei antisemita, e il risultato è allora sto zitto. Ma questo ha funzionato fino a sei mesi fa? Ha funzionato fino a poco tempo. Adesso, infatti, io ho notato questo. No, continua a funzionare, ma al contrario. Perché la gente ha capito, cioè ormai queste due cose ti dice quando tu critichi la politica di Israele adesso in Palestina, ti dicono sei antisemita, poiché però è diventato impossibile non criticarla, la reazione di molti è stata vabbè, se mi dici che sono antisemita sarò antisemita. E adesso c'è questa... Gli ebrei sono stati antisemita. Certo. Gli ebrei che criticano Israele sono antisemita. Io ne conosco due, sono famosi, che li conoscerai anche tu. Uno italiano che si chiama Moni Ovadia, no? E l'altro Chomsky, noam Chomsky, in America, no? Però le cose non stanno più funzionando, in qualche maniera. C'è stato un... Si è rotto il giocattolo. Si è rotto il giocattolo. Ma come ti spieghi tu che sia rotto giocattolo? Io, noi tutti pensavamo che in qualche maniera... Questa narrativa sull'antisemitismo, su Israele, l'unica democrazia, sull'incriticabilità, diciamo, di Israele, fosse qualcosa ormai di... Di assodato. Di assodato. Però c'è qualcosa che è cambiato. Cos'è cambiato esattamente? Io credo che i giovani ci sono sempre stati, naturalmente, no? E quindi i giovani, spesso, lo dico senza essere una critica, però sono ingenui perché non hanno visto molto, no? E quindi quando vedono per la prima volta una cosa che non possono sopportare, vengono naturalmente stupiti, no? Io, per esempio, mi ricordo le cose che succedevano in Vietnam, le stragi tipo Mailein o cose del genere, no? Che si vedevano in televisione. E la vera differenza, però, è questa. Che oggi ci sono i social. E quindi tu puoi vedere in diretta, o anche non in diretta, comunque, coi tuoi occhi, coi filmati, una volta tu vedevi i telegiornali che erano ovviamente censurati, tagliati, facevano vedere quello che volevano loro. Ormai vedi tutto, anzi, addirittura ci sono questi che fotografano mentre le fanno, no? Da una parte o dall'altra. Quelli che fotografano poi muovono loro. Sì, sì, sì. Le vittime stesse che si ripetono. E questa è la differenza, perché vedere la guerra finalmente è come se fossi lì. Senza mediazione. Senza mediazione, esatto. Come se fossi un corrispondente di guerra. È una cosa molto diversa da sentirne parlare, sentirla raccontare, vedere ogni tanto delle foto che sono magari cose che ti impressionano. Su queste cose è d'accordo con te anche Blinken. Ah, certo. C'è stato un video. Infatti, secondo lui non bisognerebbe farle vedere. Certo, lo sapevo. Parlando con Romney, l'ex candidato della presidenza, c'è un video che possono tutti vederlo. Romney dice, ma cos'è cambiato? Quella domanda che ti ho fatto io, più o meno è uguale. Blinken gli dice, guarda, ai miei tempi, quando io ero giovane, quando ero parlamentare, non so cosa, prendevo il New York Times, il Washington Post, poi alle 8 aprivo sulla CNN e tutto funzionava, la narrativa era giusta. Adesso la gente, tutti i tempi ha cose immagini. E Romney gli diceva, eh, dovete fare qualcosa, però gli ho detto, sono contento che state prendendo provvedimenti contro TikTok. Certo, certo. Perché TikTok è naturalmente, arrivando dall'altra parte, dalla Cina, da una visione che è completamente oppure. Anche perché lì, su Sumeta, su Facebook, Instagram, cerca un po' di limità. TikTok è fuori dalla... Loro parlano non solo di adesso, anche di... Però c'è anche l'altra faccia, perché è vero che non c'erano i filmati direttamente delle guerre, o perlomeno ce n'erano pochi, era anche difficile perché gli armamenti che si usavano, le telecamere... Anche la tecnologia non era... La tecnologia non era così. Però l'altra faccia erano i film. E noi, per esempio, molti dei giovani non si rendono conto di quanto siamo imbevuti, per esempio, di cultura americana, perché i film di Hollywood... Oggi Hollywood è una cosa un po' più complessa, ma negli anni 50, negli anni 40, e anche dopo, cioè ti facevano vedere i film e tu credevi che quella fosse la realtà. Addirittura una cosa che pochi sanno è che se si va a vedere il trattato di pace tra l'America e l'Italia, che è stato firmato nel 1947, è una lunghissima cosa di decine di pagine, una delle richieste... Lato di capitolazione. Esatto, sì, quando tu firmi la cosa, ma c'è una lista enorme di cose che gli italiani dovevano fare, una di queste è sorprendente perché ti obbligava l'Italia a trasmettere, a far vedere i film americani senza sottotitoli, con il doppiaggio. E perché ci chiedevano di farlo? Perché un film doppiato è molto più efficace. Se tu guardi il film e poi però mentre questi sparano tu devi leggere sotto cosa dico, ti perdi le scene. Però ti volevo chiedere su questo atto di capitolazione, e quindi è ancora valido, è ancora vigente. Noi siamo ancora occupati dalle truppe americane, molti fingono di non saperlo, abbiamo 15.000 soldati americani sul suolo italiano, i tedeschi ne hanno 35.000 e i giapponesi 55.000, ma si vede in ordine di pericolosità. Noi italiani siamo poco pericolosi e soprattutto non siamo sul bordo, mentre invece i tedeschi erano proprio sul bordo con l'est. I tedeschi hanno una storia molto pericolosa. E poi i giapponesi ancora oggi hanno 55.000, in tutto sono più di 100.000 le truppe che occupano i tre paesi alleati che hanno perso la guerra. E molte di queste cose, se tu guardi intorno, chi ci nasce non se ne accorge perché come fa? Nasci in quella condizione e credi che sia normale. Ma io per esempio, che ormai ho 74 anni, sono nato nel 50, mi ricordo noi a scuola ad esempio parlavamo, cioè ci insegnavano come lingua straniera, c'era la scelta, potevi prendere il francese, il tedesco, l'inglese. Oggi la lingua straniera è l'inglese. Vai sotto i porti e ci guida a Torino e trovi il McDonald's, e mangi il plastic food così. E noi siamo imbevuti di questa cultura e diventa trasparente da una parte e dall'altra parte non ti rendi conto appunto che sei come un ventriloquo, che parli per bocca ad altri. Però su questo si comincia a parlare, è come un segreto di Polcinella che noi siamo una colonia, cioè sembriamo liberi, ma non lo siamo, lo vediamo, quando sulle cose contano. Però per cambiare questa situazione, io ho studiato studi internazionali, ho fatto un esame, ne parlavo prima con un amico, di relazioni internazionali con Bolanate. Non so se lo conosci. Ma lui è uno studioso anche del cristianesimo, non mi sembra? Non lo so, io lo studiato perché era il mio primo professore alla facoltà di Scienze Politica, e ci insegnava che tra le cose che si diceva, la relazione internazionale fondamenta è questa, si chiama la guerra costituente, che la seconda guerra mondiale è stata una guerra costituente. Certo, certo. Per cambiare le cose, che vuoi la guerra? Se non c'è una guerra, cioè quei cinque membri del Consiglio di Sicurezza, dove vengono? Vengono dalla guerra costituente ultima? Sono i vincitori della guerra. Sono i vincitori della guerra. Anzi, questa è una cosa interessante, perché pochi lo sanno di questo. Sono cinque membri, sono sempre stati quei cinque, no? Ma quando si è fatto l'ONU, era subito dopo la guerra, il quinto era la Cina, ma era Taiwan. Era la Cina popolare, ma era la Cina popolare. E fino agli anni 70, quando poi nel 71 Nixon aprì alla Cina, Taiwan fu estromessa dalle Nazioni Unite. A tutt'oggi non è riconosciuta, benché poi alla fine gli Stati Uniti giocano su due fronti, fanno un doppio gioco effettivamente, perché sono stati loro a buttare fuori Taiwan dall'ONU e a mettere dentro la Cina, che aveva un miliardo di persone, no? Era ridicolo che non ci fossero. Non potevano più tenerla fuori. E però quelli sono, a parte la Cina, appunto i vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Anzi, è ancora peggio, perché se uno va oggi a Berlino, no? E va di fronte alla porta di Brandeburgo, che era al centro, no? Lì vicino c'era il Reichstag, no? Il Parlamento, eccetera. E' impressionante. Io c'ero andato, non me l'aspettavo. Se tu ti guardi intorno, vedi sventolare sulla piazza della porta di Brandeburgo le bandiere americane, francesi e inglesi. E dietro l'angolo quella russa. Russa anche ci deve essere. E certo, perché erano le quattro potenze che avevano vinto la guerra. Ci sarà nel loro atto di capitola. Certo, probabilmente. E ci sono 35 mila, non tutti sulla piazza di Brandeburgo, 35 mila soldati americani. E lì ti accorgi che sia... D'altra parte questa guerra, pochi l'hanno capito forse, no? Però è in parte anche una guerra degli Stati Uniti, o perlomeno un'azione contro la Germania. La Germania che, poiché aveva una parte in Est, una parte in Ovest, e la parte della Germania Est aveva un sacco di legami con l'ex patto di Varsavia, quando si sono riuniti, ovviamente sono diventati una grande potenza perché potevano giocare su due fronti. E la costruzione degli oleodotti, il Nord Stream 1 e 2, è stata una cosa che gli americani hanno cercato di osteggiare in tutti i modi, perché era il modo per la Germania di liberarsi dalla dipendenza energetica. La Germania è diventata la prima potenza europea fino a qualche anno fa. E adesso è bastato che facessero gli americani saltare l'oleodotto e la Germania adesso è in recessione, ed è diventata quasi istantaneamente una potenza di second ordine. Come si sta comportando dopo la Merkel? È stranissimo. Infatti la Merkel era una che, ma anche prima, perché Willy Brandt per esempio aveva fatto questo che si chiamava la Ostpolitik, una politica aperta all'est, e tutto questo è sparito. Loro avevano ottime relazioni con i russi e l'America ovviamente si vedeva un po' isolata, perché voleva mantenere il controllo sull'Europa. Dice, ma come? Abbiamo vinto la guerra, e adesso mi passate dall'altra parte. E questo è anche una guerra contro la Germania. E infatti hai visto che Scholz ha abbassato molto le ali, deve fare quello che poi alla fine gli viene detto. Anche sul dossier israeliano è stato peggio. Certo, fanno quello che possono, anche perché sono in difficoltà o no. Però quindi la prossima guerra, che speriamo non arriverà mai, quello è il nostro auspicio, però la prossima guerra si giocherà a Taiwan, si torna, diciamo, su quello di Taiwan. Ma queste sono tasselli di quella, l'Ucraina, Israele, Taiwan, sono le linee di faglia, diciamo. Esatto. E poi soprattutto un tentativo di contenere l'espansione cinese, che ha usato dei metodi molto diversi da quelli coloniali. Quelli, certo, il fatto di arrivare, di fare dei prestiti ai paesi in via di sviluppo, costruire infrastrutture, invece di distruggere quelle che già ci sono, eccetera. Invece di mettere in schiavitù i popoli, come si facevano secoli fa o decenni fa, di cercare di tirarli su, che poi tra l'altro sarebbe anche il modo per risolvere il problema dell'immigrazione, per chi lo considera un problema. Cioè far crescere il tenore di vita dei paesi, investimenti. Di modo che la gente non deve scappare per andare altrove. Noi non abbiamo problemi di emigrazione dall'Europa. Quelle persone, per arrivare lì, non è che vengono volentieri. Appunto. Non rimane niente lì. O per guerre, e poi da dove vengono? Per esempio molti vengono dalla Libia, che la Libia è stata distrutta qualche anno fa. Ne parlavo prima con degli amici. Quelli che arrivano attraverso la Libia, arrivano qui distrutti dal punto di vista psicologico. Alcuni con la testa già fuori. Poi il caso della Libia di nuovo è stato uno dei momenti cruciali di questi sviluppi perché era il 2008. Ma di quel marcio di cui parli qua. Si è visto il marcio, in Francia almeno, con Sarkozy, allora escono adesso il marcio. Di come lui voleva solo coprire le tangenti che prendeva da Gaddafi, ha fatto una guerra per coprire le tangenti. Ma poi non era solo quello, era proprio un tentativo di fare un cambio di regime quando l'ONU invece aveva dato soltanto l'ok per risolvere il problema, tra virgolette, delle cosiddette primavere arabe. Tu che prospettive vedi di uscita, di curare questo marcio dell'Occidente? Come si può curare? Sia che per noi occidentali poi ci arriviamo, ma a livello delle conseguenze che questo Occidente ha lasciato nel mondo. Tu vedi questo momento come lo vedono molti, come molti o alcuni almeno dire, un momento invece un po' di risollevamento, comunque di alleanze globali che si stanno creando. Sud globale, si parla di Sud globale, si parla di BRICS, si parla di Africa che si ribella alla presenza occidentale africana. Tu vedi le cose? Sai, io credo che anche se tu lo prendi da un punto di vista termodinamico, per esempio, è come se le popolazioni fossero dei gas, con tante molecole che sono gli individui. Quando una parte è calda e l'altra è fredda, uno può cercare di mettere barriere, però si sa che le leggi sono quelle di distribuire in maniera ugualitaria, finché si arriva all'equilibrio. Oggi noi in Occidente siamo il meno del 10% della popolazione mondiale, abbiamo il 90% della ricchezza e c'è poco da fare. Tra l'altro poi succede anche il contrario, il 90% della popolazione mondiale ha il 10% della ricchezza. E che cosa si può fare se non distribuire questa ricchezza, se non in maniera ugualitaria immediatamente, perlomeno cercare di equilibrare un po' la situazione, perché altrimenti la differenza che c'è oggi rispetto al passato non è che il terzo mondo sia meno seccato o incazzato con noi, è che adesso finalmente molti stati, in particolare la Cina, la Russia, il Brasile, l'India, si sono sviluppati economicamente, tecnologicamente e dunque anche militarmente. E ormai cominciano a fare un fronte che potrebbe effettivamente competere con quello dell'Occidente. Tra l'altro si è visto nella guerra in Ucraina. Ma c'è un fronte? C'è un fronte? Sembra che ci sia. L'India tiene i piedi in molte scarpe e il suo ministro degli esteri, Jay Shankar dice questo vuol dire che siamo intelligenti, che riusciamo, chi ha tanti amici dice non è che gli potete dire qualcosa, però se tu pensi che oggi questa è una notizia di oggi o di ieri credo che la Turchia ha deciso di entrare nel BRICS. Ormai ci sono i cinque fondatori o meglio i quattro più uno, cioè Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica, ci sono gli Emirati, c'è l'Arabia Saudita. E' strano, questi due paesi sono strani. E' certo, l'Arabia Saudita, poi c'era l'Argentina che è uscita quando è arrivato il nuovo presidente che sembra che stia andando giù a picco col peso e sembra che l'economia... Ma certamente. Ma quelli sono con tutto rispetto come i nostri cinque stelle, cioè che uno va e dice facci i decreti e abolisco la povertà, sì sì falli però non è che poi dopo le cose cambiano perché hai fatto un decreto. E questo della Turchia per esempio è una cosa importante che vuol dire che si arriva fino qua. Io non mi stupirei se per esempio l'Ungheria decidesse ad un certo punto di staccarsi. Lì è un po' più difficile perché l'Ungheria è parte dell'Unione Europea. Però è sempre quella che fa problemi per l'Unione Europea. E io credo che il terzo mondo si sta sollevando e per la prima volta nella storia, per lo meno degli ultimi secoli, ha la potenza militare per farlo. E lo si è visto anche con la Russia, la guerra in Ucraina. Da una parte ce l'hanno presentata come Putin che vuole invadere l'Europa, poi si è visto cosa ha fatto. Come può invadere l'Europa se è andato 200 chilometri oltre i confini e non è riuscito... Per sfondare sono due anni e non ha sfondato. Ma appunto, pensare che possa arrivare a Lisbona è semplicemente uno specchietto per l'allodere. Ma dall'altra parte, loro pensavano che lo sarebbero mangiato in 448. Mentre invece si sono accorti che tutti questi bei armamenti moderni, sofisticati, in una guerra convenzionale servono a poco poi alla fine. Ma anche in Gaza non sono serviti più di tanto. Certo, certo. E' la stessa cosa. Beh, questo è l'arma dei cosiddetti terroristi che poi sai, ma il terrorista è una parola molto ambigua perché i terroristi sono gli eserciti di quelli che non hanno le nazioni. E gli eserciti sono i terroristi di quelli che hanno le nazioni. Ma come si chiamano? Le guerriglia? Certo, i guerriglieri. I guerriglieri, i battagli. Questa è in Marocco, io da marocchino sono fiero di Mohamed Kattabi. Tu se lo conosci? No. Ma questo è quello che ha iniziato le guerriglie. Le ha fatti nel Rif, nel nord del Marocco, contro la Spagna e la Francia. Lui ha battuto due imperi. E Che Guevara stesso? Certo. Si è ispirato. Si è ispirato a lui. Si, si, si. Quindi questa è una fierezza per noi, per noi marocchi. Però ti vorrei leggere, andando verso... Abbiamo ancora un po' di tempo. Però su questo ruolo, diciamo, degli occidentali, perché poi l'occidente è tanta roba. Questa alleanza è possibile tra queste forze vive, che vive nel senso di buona volontà. Le buone volontà che ci sono nell'occidente e queste buone volontà che ci sono nel resto del mondo. C'è questo autore che ti avevo parlato, ti ho regalato anche il testo di Al-Salamia, sì. Ne parla di questo libro che si chiama Islam e Modernità per una comprensione reciproca. E lui dice, rivolgendosi a queste forze vive da uomo del sud, da musulmano anche, islamico. Lui di dove era? Marocco. Marocco. Nel Marocco. Lui dice, siamo con voi, anime caritatevoli, quando vi sollevate contro gli esecutori dei massacri estigati dalle potenze di turno o fomentati dalle indemoniate piccole forze locali. Siamo con voi, noi fedeli all'Islam, e lo saremo sempre di più, discepoli convinti del coraggio e della fede di Abramo, nostro padre, distruttore degli idoli. Vi tendiamo la mano, anime e sorelle, nell'umanità, qualunque sia la vostra fede, purché sia la compassione umana e l'amore per gli uomini ad animare i vostri cuori e le vostre azioni. Siamo e saremo disposti sempre, forte e fiducioso della misericordia di Lio, qui collegamento, a tendere la mano agli uomini e donne di buona volontà e di nobile disposizione. Lo siamo al fine di concludere un patto di non aggressione all'uomo e alla sua dignità, un patto di universale bontà per l'uomo e per il suo abito. Un patto per una bontà attiva, militante e generosa. Lo siamo perbandire l'esclusione, l'odio raziale, il disprezzo per le creature di Dio, esaltato sia il suo nome, e la violenza contro l'uomo e l'ambiente in cui vive. E poi parla di questa alleanza, il progetto di una coalizione umanitaria mondiale appartiene all'utopia e al delirio nello stato attuale di flagrante squilibrio tra nord e sud. Quindi tu, commento a queste parole, al di là del fatto quale citazione di Dio, cosa che... Sì, certo, quelle non le ho sentite. È proprio le ho sentite, no? Però al di là di quello, vedi la possibilità... Io sono pessimista in questo perché anche uno come me, per esempio, io posso anche dire appunto che c'è del marcio in occidente, eccetera, e so anche che cosa significa, e cercare di eliminare questo marcio. Significa che noi, che abbiamo appunto nove volte più di quegli altri, no? Noi del 10% che abbiamo nove volte più del 90%, e cosa dobbiamo fare? Cioè, anche se ci dicessero rinuncio a metà delle tue cose, cioè chi lo farebbe spontaneamente? Anche io che parlo, parlo, ma se uno viene tra umani... Va bene, hai una casa, dici adesso metà, altra metà, se non c'è niente, vabbè, sei fortunato perché non hai problemi, ma se c'è qualcosa... No, va bene, perché te ci dicono niente, metà una metà... Esatto, chi è disposto a fare questo? Siamo disposti magari a fare la carità, magari anche generosamente, no? Però un conto è dare magari mille euro, dico, oh, come sono generoso, un conto è dire ti do metà di quello che ho, e sarebbe solo metà, perché dovresti dare nove decimi, no? Per distribuire. Io credo che le guerre ci sono anche per questo, l'Occidente, volente o nolente, ormai è quello che è, e ci sono centinaia di milioni, no? Se siamo il 10%, dovremmo essere 800 milioni, no? Al mondo. E che si fa? Cioè, chi di noi è disposto a rinunciare? E queste cose non le fai spontaneamente, te le devono far fare brutalmente, no? Ci deve essere qualcuno che te lo toglie. No, noi possiamo... Il potere, si diceva da quando eravamo giovani, no? Non viene dato, il potere si conquista. I diritti si conquistano. I diritti si... non è uno te li dà, perché se te li dava voleva dire che era già disposto a liberarsi. E quindi è molto difficile. Sì, una guerra all'erizzonte. Se noi fossimo illuminati, alla fine del libro ho cercato di fare questa specie di conclusione, no? Così. Però io la vedo completamente utopica. L'Occidente non ammetterà mai, prima di tutto, di avere delle colpe, di essersi arricchito sulle spalle dei paesi del terzo mondo per secoli, no? E che quindi dovrebbe compensarli, esattamente come quando alla fine di una guerra, no? Tu perdi la guerra, no? E devi fare i risarcimento, no? Le compensazioni, no? Non ho chiesto alla Germania. Esatto, no? Cominciare a dire, no? Ok, una buona parte ve la diamo, no? Se fossimo stati più oculati, anni, decenni fa, avremmo fatto quelle che si chiamavano gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, che poi tu, forse sei troppo giovane, non te li ricordi, ma qui i socialisti... Non ho studiato la comparazione allo sviluppo. No, però forse l'hai studiato, appunto, no? No, non l'ho fatto. Tipo i socialisti alle De Michelis, no? Eccetera, che facevano queste cose e poi dopo se li mettevano in tasca loro, no? Eccetera. Ma anche quelli erano comunque briciole che arrivavano nei paesi del terzo mondo. La Cina, a cui accennavamo prima, la Cina sta facendo un po' diverso, perché sta cercando appunto di costruire la ricchezza, no? Le infrastrutture, no? Un nuovo modo di vita, no? Quello è il modo per ringraziarsi il terzo mondo. Noi saremo odiati e giustamente odiati, credo, dalla gente, no? Perché ci siamo appropriati di quello che non era nostro. Abbiamo fatto delle cose tremende. Prima abbiamo accennato brevemente al fatto che il Belgio era una potenza coloniale. Se uno pensa a quello che è successo nel Congo belga, dove quel re, no? Baluino, no? Baluino, come si chiama? Il secondo, no? Che è andato e 25 milioni erano e sono rimasti 12 milioni dopo per prendere il caucciuno e l'avorio, no? Cioè queste sono le cose che abbiamo fatto, no? Anzitutto bisognerebbe ricompensare e anche in un certo senso, no? Quasi dare di più, no? Come quando in un tribunale, no? Non ti fanno solo restituire, ma ti fanno... Guarda, basterebbe cominciare a cambiare le cose. Smettere, smettere di continuare, non continuare più. Il problema è che l'Occidente continua ancora... Ma continua perché se non continuasse, ovviamente, no? Sarebbe esattamente come nel caso dei gas, no? Da un giorno all'altro, no? Saremmo in base, giustamente. Però a livello, a livello, a livello un po' più piccolo adesso, a livello... Poi ti dico solo, se è la prospettiva una guerra, l'umanità non riuscirebbe a sopportare una guerra con i mezzi che ci sono adesso. Cioè, come si fa la guerra? Ma non è detto... Ma tu lo vedi come si fa la guerra? Né in Israele né in Ucraina, per esempio, si usano le armi atomiche, anche perché tutti sanno che se le usa uno, poi dopo le usa anche l'altro. Però se ci fosse un Hitler, diciamo, basterebbero 50 bombe nucleari per distruggere tutto il pianeta. Non abbiamo 1.500. No, 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 no. Il pianeta no, non sarebbe scalfitto nemmeno. No, no, non il pianeta, la vita sul pianeta. Ah, ma nemmeno la vita, gli uomini, quello sì. Siamo anche molto pericolosi per il resto del pianeta, quindi forse non è così male. Siamo una specie sbagliata, probabilmente. Eh, guarda, adesso arriviamo al confronto a te. Per te sei che siamo una specie sbagliata. Secondo me siamo una specie che ha avuto, ha un ruolo, cioè per un credente musulmane, ma credo anche per altri, tu riconosci meglio di me gli altri, gli altri credenti. Ma non li condivido allo stesso modo. No, quello è sicuro, quello lo so, non lo condividi nessuno. Esatto. Però su quelli li conosci. Noi siamo, in qualche maniera, abbiamo un ruolo. Perché poi quanto facciamo fede a questo ruolo, oppure no, no. E siamo, nel Corano si dice che gli uomini sono, Dio dice agli angeli, comunicando agli angeli, diciamo, io creerò, porrò sulla Terra un mio vicario. Siamo vicari, quindi siamo luogotenenti di Dio. Siamo i vici, diciamo, di Dio sulla Terra. Quindi lo scopo nostro è quello di questa Terra, questo pianeta, è un dono di Dio. Noi dobbiamo cercare di preservarlo, di edificarlo, di farlo prosperare, di farlo, non solo per noi, per tutte le creature che ci vivono. Questo è la prova. Per tutte le creature sono poco d'accordo. Dovrebbe essere. Per esempio, chi non è vegetariano, no, non è che ha molto rispetto per le creature, no? Cioè, anzi, quello del corno è un problema enorme, no? C'è un ordine, ma sì, ma lì possiamo essere tra tante cose. Però, poi, perché tanto dobbiamo andare verso la conclusione, sul tema della religione. Qualche domanda, qualche confronto su questo ci deve essere. Tu vedi un ruolo per la religione nelle nostre società, diciamo, post-post-moderne? Oppure, secondo te, le religioni rappresentano soltanto un male da istirpare e meno ce ne saranno, meglio faremo. Condividi questa? Dunque, io condivido se il Dio è il Dio monoteista delle tre religioni del libro, cioè giudaismo, cristianesimo e islam. Ci sono delle teorie al proposito che sia proprio il monoteismo che è una religione violenta, anzitutto c'ha una divinità, molte altre religioni non ce l'hanno, per esempio i buddhisti non hanno un Dio, no? Il Buddha è un profeta, semplicemente, come sarebbe Mahomet, ma non c'è una divinità dall'altra parte, no? E il problema del monoteismo è che quando tu dici che c'è un unico Dio è del tuo, e quando c'è un altro che dice la stessa cosa e però avete due dei diversi, e lì la cosa non c'è compromesso, no? Se il mio Dio è quello vero e tu dici no, è il tuo Dio che è quello vero, o uno dice è lo stesso Dio, ma poiché non lo è, no? Perché lo si vede chiaramente e questo diventa difficile. No, ma su questo, su questo, solo su questo, storicamente non è vera questa cosa qua. Gli monoteisti, non tutti i monoteisti, poi i monoteisti sono diversi e gli uomini sono diversi. Perché poi quando parlo, parlo, diciamo, del libro. Infatti, le tre religioni del libro, anche questo è il problema, il libro c'è scritto qua, e vabbè, chi l'ha scritto il libro? No, ma c'è scritto qua, però il problema è avere quella tolleranza per dire, io ci credo, questa è la mia verità, ma può essere che tu abbia un'altra verità, e permettere all'altro di avere un'altra verità, però dire, se tu hai una verità, allora questa nega la mia verità, no, ognuno può avere una verità diversa. Ma questo è intrinseco nel monoteismo, infatti se tu vedi... No, ma da monoteista ti dico... Il monoteismo è andato bene fino ad un certo punto che quando c'era solo uno, cioè c'era il giudaismo. Quando sono arrivati i cristiani è stata la fine, perché i ebrei e i cristiani hanno cominciato subito a combattersi in tutti i modi, poi è arrivato il terzo monoteismo, cioè l'Islam, e allora... L'hanno sempre combattuto, i cristiani musulmani hanno... L'Islam e i cristiani, e poi adesso... Parlavamo prima della Spagna, parlavamo della Sicilia stessa, per non andare lontano, la Sicilia stessa viveva o no? Ah, i musulmani, i cristiani, i normanni, quando sono arrivati i normanni con Federico, ha accolto i musulmani, sono rimasti a vivere nel regno normano, hanno costruito... Rimane il fatto che le guerre di religione ci sono sempre... Quindi ci può essere questa... Non si è mai visto una guerra di religione buddista contro qualcun altro, perché non ha senso, no? Mentre invece le tre religioni si sono combattute in tutte le possibili combinazioni... Anche i non religiosi si combattono... Chi? Anche i non religiosi si combattono... Anche i non religiosi si combattono... Anche i non religiosi si combattono... Hitler e Stalin... Sì, ma questo vuol solo dire che la religione non è l'unico motivo per cui si fa le guerre, ma è uno dei motivi... Dipende... No, ma il problema secondo me non è la religione in sé... No, infatti il monoteismo... Ma il problema è l'uomo... L'uomo, si può darsi... L'uomo che usa le religioni civiche, anche le religioni non del libro... Diciamola così brevemente... Tu mi hai chiesto della religione, no? E io direi che la religione è una parola troppo lunga... Mi basta la ragione... Che è una parola un po' più corta, no? Però la ragione ha fatto anche... Anche quella... Quello lo dicono i religiosi dicendo che anche la ragione... Tu non ne ammetti? Io no... L'illuminismo cosa ha fatto? Eh, beh, l'illuminismo non ha fatto nulla più che altro quando si parla della ragione... Si pensa per esempio... Quelli che hanno preso l'illuminismo... Sì, sì... Lo spirito illuminista ha portato chi? Ha portato Napoleone a fare quello che ha fatto? Ha portato l'Ottocento, il colonialismo dove... Ma l'Ottocento non era illuminista, l'Ottocento era romantico... Sì, era coltivista... La ragione non ti fa combattere secondo me, è il sentimento che ti fa combattere... E infatti i romantici sono estremamente bellicosi, no? Anche molto amorosi, no? Stalin cos'era? Era uno che sposava la ragione... Stalin aveva fatto il seminario, era un seminarista a Pilissi... Era un credente adesso... Ma io ti voglio far commentare questa citazione... Sono due citazioni della verità... Una di Cotre... Non so se lo conosci... Nel suo libro diario di un anno difficile dice... Fintanto che nessuno di noi non avrà la minima idea di come costruire una mosca domestica da nulla... Come possiamo scartare in quanto intellettualmente ingenua la conclusione che la mosca sia stata creata da un'intelligenza di un ordine superiore alla nostra? L'hai letto quello? Com'è... Negli ringraziamenti ci sono pure io... Perché così si lo conosco... Lui è un matematico... Però cosa ne pensi di questa sua... Quel libro lì è un libro strano perché lui l'ha scritto ed era in un momento particolare della sua vita... Aveva scoperto di avere un cancro... Io l'avevo tra l'altro invitato al Festival di Roma per venire a parlare di matematica e letteratura... Lui aveva detto che sarebbe venuto... Poi a un certo punto mi scrive e dice che è successo una cosa... E mi ha detto che sono nelle mani degli dèi... No, no, poi adesso è guarito... Infatti poi è venuto tante volte... Ed è un libro molto interessante perché parla molto di matematica... Lui cerca di capire per esempio... Ed erano domande che poi faceva agli amici... Diceva ma per esempio il dottore mi dice... C'ho il 90% di probabilità se faccio questa cura di... Ma se io sono nel 10% quello succede... Cosa vuol dire 90%? Quando uno ti dice 90% dici sono a posto... No, potresti essere... 90% aspetta perché potresti essere dell'altro 10% e così via... Quindi erano sì delle meditazioni un po' così... Lui non ha mai capito esattamente che cosa pensi... Per esempio non è religioso... Però è un uomo molto travagliato tra l'altro... Perché tu non ti reputi agnostico e ti reputi invece a te... Non c'è differenza tra quei due termini anche se poi dopo si è voluto farlo... Perché agnostico è una parola che è stata coniata da Thomas Huxley... Che era il mastino di Darwin, il biologo... Che diceva io ce l'ho con quelli che dicono di sapere... Gli gnostici, no? E io invece sono agnostico... E connegava gli altri... Io sono il contrario di voi... E oggi sì si fa una distinzione un po' capziosa... Perché la parola ateo dà fastidio... Sei senza Dio, senza Dei... E allora invece si crede che dire agnostico voglia dire... Non so quale sia la risposta, no? Non è così... Ma dire io sono senza Dei... O dire, come intendeva Huxley... Sono senza conoscenze certe... Che sono quelle che ti dà solo la religione, no? Perché la scienza è sempre ipotetica, no? È sempre così, no? Quindi da quel punto di vista essere senza Dei... O essere... Chi è che ti può dare una conoscenza certa? L'agnostico lascia la porta aperta, l'ateo la chiude... No, ma chi è senza Dio... Ovviamente automaticamente non ha delle credenze certe, no? E quindi è agnostico allo stesso modo... No, l'ateo ha delle credenze certe, no? No, perché... L'ateo crede che non esista... No, ma l'ateo non capisce nemmeno le cose... Perché quando... Io perlomeno sono tanti anni che ho cercato di farmi spiegare cosa voglia dire Dio... Alla fine tutti arrivano sempre a una stessa cosa... Che secondo me non c'entra niente con la religione, no? Dio è amore... Ma dicono che c'entra l'amore, vabbè... Poi lasciamo perdere, no? Queste cose... Queste sono i cristiani, noi non diciamo che ti amo... Eh, lo so... Io non è solo amore... Non è solo, ma è anche amore... È anche castigo... Dio è anche castigo... Beh, ma anche i genitori quando ti castigano lo fanno per amore... A meno che siano dei pervertiti, ci sono anche quelli, no? Quindi sono le due facce di una stessa vita... Arriviamo all'ultimo argomento che affrontiamo... E' quello più attuale, diciamo... E' quello più attuale perché tra pochi giorni... Non so quando verrà diffuso questo video, però sicuramente prima delle elezioni europee... Tu, per la prima volta, hai deciso di scendere in campo, come ha fatto qualcuno... Perché? No, non è la prima volta... Non è la prima volta... Almeno altre due volte... 50 anni fa... Quando ero giovane... Quando ero giovane... E sono stato nel partito radicale... Che all'epoca, agli inizi, erano gli anni... I primi anni 70... Era ancora completamente sconosciuto... Ho conosciuto Pannella da giovane... Che parlava sempre lui... Poi noi eravamo dei ragazzini... Quindi stavamo a sentirlo... E lui non finiva mai di parlare... Anche Radio Radicale, non me ricordo Radio Radicale... Esatto, Radio Radicale, ancora adesso spesso ci vadano così... E con loro ho fatto molte battaglie... Che però erano una cosa di impegno civile... Diciamo l'aborto, per esempio... L'obiezione di coscienza... E tante altre cose sui referendum... Il tentativo di abolire Concordato, per esempio... Ci avete provato... No, ma abbiamo provato... Non si poteva neanche farlo... Sapendo che non si può fare... Ma abbiamo raccolto le firme... All'epoca era, credo, un milione di firme... Sì, abbiamo raccolto... E la Corte Costituzionale ha detto... Era inutile... Ma lo sapevamo prima... Certo, ma così... Quindi quello è stato un momento di... Ma cos'è quell'articolo è stato messo per il Concordato... Oppure per l'atto di capitolazione? No, no, per qualunque atto di politica estera... Non si può... Soprattutto forse, secondo me, per quell'atto di... Non solo... L'idea è che la politica estera non viene fatta dai cittadini... Ci sono esigenze superiori... Che non... Perché siamo la colonia, noi non decidiamo noi... Ma non solo quello, anche in seguito... Quello che si fa con gli altri stati... Lo decide il governo e spesso non te lo dice... Per esempio, oggi quando si fa l'invio delle armi in Ucraina... L'altro giorno la Meloni, anzi Tajani ha ripetuto... Sappiamo, abbiamo detto che abbiamo dato alcuni tipi di missili... Ma il resto non diciamo... Sappiamo di questi missili perché l'ha detto un altro Stato... Ma noi facciamo e non diciamo... Questa è una strana concezione... Come delle armi che mandiamo a... Esatto... Esatto... È una strana concezione della democrazia... Quello che si fa all'estero, quello che vogliono i governanti... E il popolo non deve sapere... La seconda volta sono entrato nel 2008... Quando facciamo il festival di matematica... A cui alludevo prima con Cuzzino... E in realtà Veltroni era sindaco di Roma all'epoca... Poi si era dimesso... Aveva fondato il nuovo partito, il PD... Mi aveva chiesto di entrare... Come a tanti altri, naturalmente... E lì sono stato qualche settimana... Poi ho visto come era l'andazzo... Me ne sono andato... Erano tutti baciapile... C'erano i comunisti e i democristiani... Però tutti credentino... E sono scappato... Credenti in cosa però? E questa è la terza volta... Probabilmente l'ultima... Perché viste gli intervalli tra uno e l'altro... Però questa volta è una cosa diversa... Perché in fondo questo non è un partito... La lista Santoro... Chiamiamola così per comodità... Pace e dignità... Pace e dignità... Pace e dignità... Tre parole d'ordine... Qualcuno magari ne prende una più delle altre... In particolare la pace... Che era la prima da cui siamo partiti... Quelle sono cose su cui... Secondo me c'è poco da discutere... Pace, terra e dignità... Sono le cose fondamentali... Che si dovrebbero in qualche modo realizzare... E quindi mi è piaciuto molto... Anzi tra l'altro il libro è stato scritto apposto... Perché con Santoro era già... Più di un anno che ne parlavamo... Lui l'altra sera ha detto... A Roma diceva... Due anni fa... Ma due anni forse era eccessivo... Ma almeno un anno e mezzo... E allora ho cominciato a dire... Ma quale potrebbe essere il mio contributo a queste cose... Io non sono un politico... Non mi interessa molto la politica attiva così... Giornaliera anche quotidiana... Ho detto... Secondo me... Essendo uno che scrive libri... Potrei fare una cosa che non ho mai fatto... Cioè fare un esame di coscienza sull'Occidente... E il mea culpa... Esatto... Quello l'ho fatto... E poi nel frattempo ho fatto tanti comizi... Tra l'altro non soltanto per la circoscrizione dove sono io... Senor Dovest... Ostra... Piemonte... Lombardia... Liguria... Ma sono andato da Osta a Palermo... A Ferrara... A Venezia... A Roma... Dove appunto io non sono nemmeno candidato in quelle circoscrizioni... Lo si fa più che altro per portare delle idee... Quella è la cosa importante... Però se ti leggono tu vai o no? Sei di quelli che non vanno... Mi sembra che queste siano... Quelle ipotesi... Dice... Se ci avessi un miliardo cosa ne faresti? Ma ci aspettiamo ad averlo e poi vediamo... No ma su questa lista... Su questa lista io dico la mia anche... Personale... Io... Guarda... Ho sentito di questa lista sentendo te... In un'intervista... In un'intervista su YouTube con Santoro... E noi stiamo preparando un convegno... Poi abbiamo fatto... Dovevamo farlo in una sede della Chiesa... In Milano Centro... Un bel convegno sul tema... La Palestina e l'Occidente... Il tradimento dei valori... Poi non ci hanno permesso di farlo... L'abbiamo fatto in una moschera... Ed è il tema proprio era quello... Poi è arrivato il tuo... Stavo cercando un po' su questo tema... Ho trovato il tuo video... Il tuo intervista... E non vedevo l'ora che uscisse questo video... Poi non è uscito prima... Noi avevamo lì ricevuto... Avevamo Zocca... Andrea Zocca... Che anche lui... Ne ha dette... E lì ho sentito della lista... E da quel momento in cui mi sono affascinato... Io non ho mai avuto un attivismo politico... Diciamo... Però ho seguito... Facendo parte della comunità islamica... Ci contattano sempre i politici... Soprattutto quelli di centro-sinistra... Diciamo... O di sinistra... Ed è sempre un contatto... In qualche maniera... Interessato... Vieni... Ci presentiamo... Noi abbiamo tutta una regola... Sempre in moschera... Di non accogliere mai nessun candidato... A venire a parlare con i fedeli... Noi... Vuoi contarci... Vieni incontro a noi... Ci dici come stai... Con cui vai... Noi poi magari giriamo ai nostri... Certo... Vedere loro cosa vanno a valutare... Invece voi... Nessuno mi ha cercato... Sono... No... Ho cercato... Siamo candidati recalcitranti... Io che mi ho cercato... E ho avuto... Nonostante noi stessi... Infatti parlando con molti di voi... Dicono... No... Ma lascia stare... Non c'è... No... L'importante sono le idee... Appunto... Io credo... Perché questa è una lista diversa... Perché non è una lista di politicanti... Certo... Ma una lista di intellettuali... Ci sei tu... Ci sei tu... Sì... Poi cambierebbe... Certo... Se anche ci votassero in parecchi... No... Magari uno va... 4-5 euro deputati... Però... In un Parlamento... Dove ce ne sono centinaia... Cioè... L'effetto può essere... Ma è più una bandiera... L'importante è cercare... E' l'occasione di parlare di queste cose... E di cominciare a meditare... Perché i problemi sono problemi globali... Bisogna risuolverli piano piano... No... Ma è proprio... Tornando a quello che dicevamo prima... Quell'alleanza... Quel ruolo dei cittadini... Anche nel scoperchiare questo occidente marcio... Abbiamo questo strumento... Che comunque come abbiamo detto... Non è pieno... Perché ci fanno votare solo quando vogliono... Certo... Però quando ci fanno votare... Facciamoli vedere... Anzi... Come diceva qualcuno... Se votare servisse a qualcosa... Ci avrebbero fatto votare... Quello sì... Però... Per adesso ci fanno votare... Secondo me... C'è una piccola... Peccolo risultato... Ma almeno un esercizio democratico... Parlo per me... Perché come comunità islamica italiana... Siamo un milione e mezzo di persone in Italia... Che hanno la cittadinanza... Che hanno la cittadinanza... Che hanno la cittadinanza... Che sta per avere la cittadinanza... Che però politicamente non hanno un peso... Infatti siamo schiaffeggiati da destra e sinistra... La sinistra... La destra ci usa... Per salire... Per arrivare al potere... La sinistra... Qualche volta candida qualcuno di noi... Ci usa come marchietti... Diciamo... E poi non ci dà mai nulla... Non ci riconosce niente... Neanche la cittadinanza... Non ha mai cambiato... Ci hanno promesso varie volte... Parlo del PD... Parlo del... Ah certo... Lo so bene... Per fare i nuovi... Però... Questo progetto politico... Che nasce adesso... Credo... E spero che continui anche... Dopo le persone... Qualunque sia il risultato... Probabilmente lo farà... Perché ci siamo incontrati... Appunto abbiamo capito che... L'importante è quello... Di dire le cose che facciano... Apritevi a questi nuovi... Nuovi elettori... Che sono nuovi sul mercato elettorale... Ma sono qua... Infatti... Noi siamo... Io parlo per me... Io non rappresento nessuno... Non rappresento nessuno... Ma parlo per me... Credo che... Le nostre comunità... Le nostre comunità islamiche... Parlo delle comunità di nuovi cittadini... E dei cittadini anche... Perché non è che da escludere gli altri... Però lì secondo me... Ci può essere quella alleanza... Almeno al vostro livello... Che possa in qualche maniera... Un po'... Lavorare... Per quello che dici tu... Partire da questo libro... La confessione dei peccati... Che pesano sulla coscienza... Di un bianco italiano... Europeo occidentale... Cioè... Questa confessione... La confessione religiosa... No... Perché... E più di una confessione... Perché è una confessione religiosa... E' certo... Tu l'hai fatta pubblica... E' certo... Hai confessato i peccati dell'Occidente... Al mondo intero... E' arrivata... I protestanti fanno così... I protestanti lo fanno davanti a tutti... Le confessioni... Noi invece siamo molto segreti... Dio che i veri peccati... Non li confesserei in pubblico... No no no... No noi come musulmani... Non confessiamo nessuno... Anzi... Devi essere obbligato a non confessare solo Dio... Nemmeno lui... Ah lui dia... Lui dia... Andreotti diceva quello... Che se uno vuole mantenere un segreto... Non lo deve dire a nessuno... Nemmeno a se stesso... E quei peccati bisogna fare così... E' pericoloso... Ci sono tante barzellette... Concludiamo questa barzelletta marocchina... Ma non è anche marocchina... Dei shilha... Dei berberi... Dicono che un shilha... I berberi sono come i genovesi qua... Sì sì... Sontratate come i genovesi qua... Dice che questo qua aveva un negozio... Loro hanno i negozi... C'è questa... Che hanno i negozi... Allora lui aveva questo negozio... E ha nascosto i soldi... Ma li ha nascosti talmente bene... Che non si ricorda neanche lui... Cosa ha fatto? È andato alla polizia... Ha detto... Torturatemi finché non confesso... Dove sono fai chiesto... Quindi con questo concludiamo... Ringrazio tantissimo... Grazie a voi... E ci rivedremo... Salamu ala... Grazie a voi...